Grazie Silvia. Adesso vediamo praticamente quello che ha già spiegato Silvia, quindi chiedo a Roberto di avviare la condivisione con la piattaforma, così iniziamo dal form che sarà la prima cosa che vi troverete davanti quando andrete a compilare il questionario. Vai Roberto. Devi aprire il microfono. Buongiorno a tutti, farò un giro di dimostrazione per farvi vedere qual è il processo di accreditamento nel complesso. Beatrice e Silvia intervenite quando volete, se ci sono domande magari le facciamo alla fine, altrimenti potete cliccare sulla mano e cercherò di accorciermene. Allora, il processo comincia con il form di registrazione. È un form che attualmente è in ambiente di test, perché come diceva Silvia verrà aperto quello di produzione, quindi quello su cui lavorerete alle 2 di oggi, alle 14, e ci permette questo processo di testare la protocollazione, quindi l'invio alla regione del questionario. Cercherò di essere chiaro e di focalizzarmi sui punti chiave per non essere troppo dispersivo e create confusione. Partiamo soprattutto dal ruolo di direttore. Questa è una novità introdotta quest'anno rispetto agli anni precedenti e consente appunto di specificare se chi sta compilando il questionario, chi compilerà il questionario, sarà un direttore o un operatore. Quindi l'utente che accederà alla piattaforma di accreditamento con identità digitale Speed può essere o direttore o operatore. Anche in caso in cui la compilazione sia effettuata dall'altro operatore, è necessario che il direttore compili il form per la creazione di un utente, in quanto unica figurabilità dall'invio del questionario compilato al protocollo. In questo caso partiamo dal ruolo di operatore, quindi non selezioniamo il campo, andrò a compilare gli altri campi fittizi, prenderemo un codice fiscale anch'esso fittizio, un altro campo importante è appunto l'assegnazione del museo all'utenza che si sta creando. Quindi questo è un campo che è a scelta multipla, potete selezionare più di un museo da assegnarvi. È un motore di ricerca, quindi se scriviamo possiamo restringere la lista dei musei, e i musei generalmente sono identificati con un codice Pater, un codice Istat e la denominazione del museo. In questo caso io ho un museo di test che ho preparato, casa Carducci, l'ho assegnato e salvo, quindi abbastanza semplice. Una volta salvato con successo, la pagina mi rimanda a un link che è proprio il link della piattaforma su cui compileremo il questionario. Quindi accederò con le credenziali che ho utilizzato per compilare form. attenzione, allora, in ambiente di produzione, cioè ripeto, quello su cui andrete a lavorare, sarà consentito solamente l'accesso tramite speed. In questo caso siamo in un ambiente di test e quindi userò le credenziali. Nell'ambiente di riproduzione potrete entrare solamente tramite speed. Una volta entrati, avremo a disposizione la sezione anagrafica e vedremo i musei che abbiamo già selezionato durante la compilazione del form. Roberto, un attimo. Qui, ovviamente, Roberto ha selezionato solo un museo, però nel form di iscrizione avrete la possibilità, nel caso uno stesso direttore, sia direttore di più musei, di selezionare più musei che poi vi ritroverete qua esattamente in questa schermata. Perfetto. Quindi selezioniamo il museo e ci riporterà all'anagrafica. L'anagrafica è stata pensata rendendo i primi tre campi, cioè il codice ISTAT, Pater e la denominazione del museo, non modificabili. Per tutti gli altri invece c'è la possibilità di inserire dati e vi faccio presente che al salvataggio di questi dati, solamente i dati modificati verranno inviati alla regione per renderne nota e qualora ci fossero degli appunti da fare, quindi magari ipotizio, è stato cambiato il nome del museo oppure altri dettagli da specificare, è possibile farlo tramite l'ultimo campo, indica le informazioni da correggere. Scrivendo qui verrà inviato l'email, verrà inviato il testo nell'email. Aggiungo solo una cosa a questo, i dati che nella maggior parte dei casi trovate già compilati, allora quelli che ha detto Roberto appunto in grigio non sono modificabili da voi, gli altri sì, sono quelli mutuati da Pater, il nostro catalogo del patrimonio, quindi li trovate descritti perché sono stati importati dal catalogo del patrimonio. Importante è compilare il campo codice fiscale partita IVA del museo. Perfetto, quindi potete procedere con la compilazione del questionario. Ora, il questionario ha una leggenda che ti permette di capire l'identità dei campi, di che tipo sono, e presenta dei campi a scelta multipla, oppure campi come sì e no, quindi esclusivi, e campi di tipo testo, dove potrete inserire del testo appunto. Ci sono anche campi allegati e qui mi soffermo un attimo perché andando a selezionare un allegato, casa Carducci, potrete inserire delle note. Facendo questo, l'allegato verrà inserito dentro al questionario e vi verrà, vi comparirà la scritta, ricordatevi, ricordatevi di salvare le modifiche perché il file è stato allegato, ma verrà legato al questionario solamente attraverso il salvataggio. Quindi mi raccomando, quando inserite un allegato, ricordatevi di salvare successivamente. L'allegato riguarda lo statuto regolamento ed è l'unico allegato che è presente in tutto il questionario. Per quanto riguarda i campi a cui accennava Roberto, gli SM e gli OM sono obbligatori, quindi se non li compilate non andate avanti nel questionario e anche alcune info sono state rese obbligatorie, proprio perché ci sono utili per un quadro generale sul museo. Abbiamo, come vedete qui in alto, una barra di avanzamento. Se io seleziono un campo, se il campo è obbligatorio, l'avanzamento andrà avanti. Quindi io ero al 98, arrivo al 99 e compilando questo campo arrivo al 100%. Ora io mi sono preparato il questionario per questioni di tempo, però ecco, fate attenzione a raggiungere il 100% qualora vogliate posizionare il questionario in stato completato. Se invece pensate di compilarle solamente una parte, potrete farlo e salvare il questionario con stato in corso. Quindi in questo caso il salvavaggio è concesso. Nel caso di completato, no. viene segnalato che mancano dei campi obbligatori. Sì, quindi diciamo che, scusami, se avete compilato determinati campi, poi magari avete bisogno di approfondire degli altri aspetti che vi vengono chiesti nel questionario, potete tornarci un'altra volta salvando comunque quello che è già stato compilato. E questo vale per tutte e tre le sezioni, quindi organizzazione, collezioni e comunicazione. Adesso io ho raggiunto il 100% nella prima sezione e quindi posso selezionare lo stato completato e salvare. Ah, aspetta. Il campo note che c'è alla fine di tutte le... Di tutto il questionario, sì. Sia di organizzazione che di collezioni che di comunicazione è riservato a, diciamo, a quelle note che volete fare sulle domande che avete compilato prima, se ci sono delle difformità rispetto a... che il museo ha rispetto alle domande precedenti. Quindi delle segnalazioni, ecco. Passo alla seconda sezione, sono al 98%, compilando l'ultimo campo arrivo al 100%, controllo lo stato sempre, che sia in corso, altrimenti se lo vuoi, penso che sia definitivo, lo ho completo e salvo. L'ultima sezione l'ho già compilata al 100% e posso... e l'ho completata. In questo momento io sono con ruolo operatore, quindi le mie facoltà si fermano qui per consentire al successivo ruolo di direttore di confermare il questionario e di inviarlo al protocollo. Quindi torno sulla pagina... Rimani un attimo qua, scusa, vedete in alto a sinistra che c'è comunque in via regione, ma Roberto adesso si è logato come operatore, quindi non potrà procedere. Non c'è la possibilità di salvarlo, di inviarlo, non c'è alcun pulsante che consenta l'invio del protocollo. Adesso, per evitare i problemi di sessione, ne apro uno in incognito. E quindi, in questo caso invece sono il direttore. Nel caso del direttore dovrò assolutamente spuntare la casella dedicata appunto al direttore e compilare i campi così come ho fatto con l'operatore. Prendo un altro codice fiscale. Pettizio. E seleziono il museo, che era il Carducci, Casa Carducci. Come prima, salvo. Mi raccomando, il codice fiscale deve essere legato all'identità SPID, perché voi farete l'accesso con lo SPID. Vero, grazie per averlo riguardato, giustissimo. Una volta effettuato l'ingresso come direttore, mi ritroverò la stessa schermata dell'operatore. Quindi seleziono il museo, sono in Anagrafica e ricomincio per Organizzazione, Collezioni e Comunicazioni. Se vedo qualcosa che non è regolare, posso modificare i campi, ovviamente. Se il questionario nelle tre sezioni non è stato in stato completato, posso farlo, posso mettere un stato completato e salvare. A quel punto vado nella sezione Invio a Regione, quando sono sicuro che il questionario è chiuso. Nella sezione Invio a Regione, ho la possibilità di inviare il questionario per il protocollo. Quindi mi compare il pulsante Invia. Posso selezionare il questionario da inviare, nel nostro caso abbiamo solamente un museo, quindi invierò questo. Salvo. A questo punto il sistema rielabora tutto il questionario, quindi tutte le domande, e genera il file, il PDF, che verrà inviato alla Regione per la protocollazione. Quindi dovrete attendere un pochettino. È il caso di non chiudere la schermata, in questo caso qua. Ed eccolo qua. Come abbiamo visto, è stato trasmesso, vi compare la data e l'ora, il numero del protocollo, che viene direttamente dalla Regione, e potremmo scaricarlo. Però gli arriva anche una mail, una mail con il numero del protocollo e il PDF del questionario. Eccolo qua. Quindi arriva un'e-mail a voi, e ovviamente anche una alla Regione, per conoscenza. In caso vogliano, diciamo, il questionario sia già protocollato, e per qualche motivo ci sia necessità di riaprirlo, bisogna mandare un'e-mail a Sistema Museale Regionale, che poi sarà protocollata, e poi verrà fatta la procedura di sblocco del questionario. Vi sarà comunicato, ovviamente, quando potrete andare a modificare quello che ritenete che debba essere modificato rispetto al precedente invio del questionario, e poi farete un successivo invio, perché non è possibile ovviamente annullare il primo protocollo. E infatti siamo in un ambiente di test proprio per questo, perché non possiamo generare un protocollo più tipico. L'ultima cosa che volevo dire è che a volte può capitare che la comunicazione tra il sistema Look e la Regione non vada a buon fine. In quel caso mancherà il numero di protocollo e verrà segnalato appunto l'errore. Il sistema, in ogni caso, continuerà a provare l'invio alla Regione ogni ora, quindi potrete, insomma, non c'è niente di allarmante, perché il sistema ci proverà finché non ci riuscirà. Però mi raccomando, i passi, diciamo, da seguire sono la compilazione da parte di un operatore o da parte del direttore. Lo stato di ogni schermata da in corso a completato e poi l'invio a Regione. Questo è molto importante, altrimenti non arriva al numero di protocollo e comunque non arriva al questionario, al protocollo, e noi in fase di istruttoria non possiamo prenderlo in considerazione. Bene. Ok. Interrompo la condivisione e ti ripasso la parola. Ok, io farei così. Grazie. Grazie a tutti.